il 21 novembre ricorre la festa della presentazione della beata vergine maria per commemorare il giorno in cui maria ancora una dolce e tenera bambina si recò al tempio di gerusalemme per offrirsi a dio maria disse beati coloro che ascolteranno la parola di dio e la osserveranno mentre la giovane donna di nazareth si preparava a diventare tempio del figlio di dio e culla dell'intera umanità dedichiamo una preghiera a maria affinché possa intercedere per noi presso il signore possa donarci conforto liberarci dai mali e per ringraziarla della sua materna dolcezza nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen ti consacro regina la mia mente affinché pensi sempre l'amore che tu meriti la mia lingua perché ti lodi il mio cuore perché ti ami accetta o santissima vergine l'offerta che ti presenta questo misero peccatore accettala ti prego per quella consolazione che senti il tuo cuore quando nel tempio ti donasti a dio o madre di misericordia aiuta con la tua potente intercessione la mia debolezza impetrandomi dal tuo gesù la perseveranza e la forza per esserti fedele sino alla morte affinché sempre servendoti in questa vita possa venire a lodarti in eterno nel paradiso padre santo secondo la tradizione maria consacrò la sua giovane vita al tuo servizio nel tempio fa che quanti sono stati consacrati a dio dal battesimo comprendano la missione loro affidata e vivano realmente per la tua maggior gloria o maria per la tua santa presentazione salvaci padre santo cui maria tempio e tabernacolo del verbo incarnato per prima presentato il vero culto in spirito e verità fa che quanti nella chiesa scelgano la via della consacrazione al signore siano sempre fedeli alla loro vocazione o maria per la tua santa presentazione salvaci padre santo cui maria sul calvario ha presentato se stessa unitamente al suo unico figlio gesù vittima a te gradita fa che quanti partecipano al santo sacrificio dell'altare rivivano il mistero della croce offrendo se stessi insieme a gesù e maria o maria per la tua santa presentazione salvaci bambina poderosa prega per noi bambina purissima prega per noi bambina salute degli infermi prega per noi bambina degli angeli prega per noi prega per noi bambina scelta da dio madre nostra e dell'umanità amin 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 amin